Daniel Pometti, questo IBC 2018 è l'occasione per presentare due aziende, la CTA che conosciamo da molto tempo e la Teco. La Teco ti vede come presidente in SEO, mentre la CTA ti vede come direttore generale. Spieghiamo un attimo la partnership tra queste due aziende. Collaboriamo, siamo nello stesso stabile, diciamo che la CTA si dedica di più alla produzione sempre, alla progettazione e alla vendita, però a grossi enti, enti statali, clienti istituzionali, dicasi Rai, dicasi Ors, diversi aziende, tutto il nord Europa, Teracom, sempre stata fornitore di autostrade. Poi CTA ha sempre fatto più produzione di apparati di bassa potenza, la Teco invece si presenta più come un'azienda che sviluppa apparati di alta potenza, la Teco si rivolge di più a un mercato dei privati, un mercato più in Latino America, altri tipi di mercati non istituzionali. Poi la Teco fornisce alla CTA gli apparati di alta potenza, fornisce tecnologia soprattutto nei sistemi di supervisione, sistemi di controllo di rete, in IP, web, fornisce tutto quello che è la tecnologia web base, diciamo, per mettere gli apparati, e l'alta potenza. Poi la CTA lo integra, fa la parte di sistemi, dove poi vengono richiesti sistemi N+, sistemi 1+, dove ci sono filtri, combinatori, dove ci sono dei grossi sistemi, questo lo fa la CTA. Le due figure che tu ricopri nell'una e nell'altra società, quindi da un lato direttore tecnico e direttore generale in CTA, mentre in Teco, presidente in CEO, è quasi un conflitto di interessi o è un'ulteriore potenzialità a livello operativo? Beh no, è una grossa potenzialità, perché intanto che sia CTA è socia della Teco, sia Teco è socia di una piccola parte della CTA, ed è una potenzialità perché io metto tutta la mia esperienza di tecnico, sono 40 anni che lavoro di tecnico nel broadcasting, al servizio della CTA e in questo caso anche al servizio della Teco. Poi noi abbiamo i commerciali che in questo caso propongono principalmente CTA, ma eventualmente ci sono dei clienti dove bisogna arrivare con un prodotto di un altro tipo, possono proporre anche il prodotto Teco, quindi sono una potenzialità, una sinergia. Noi abbiamo anche alcuni dipendenti che sono part time di entrambe le aziende e abbiamo aziende che sono i fornitori, che sono fornitori di entrambe le aziende, condividiamo i locali. Quindi una stretta partnership, io direi a questo punto di fermarci su questa prima parte e passare ad alcuni dei prodotti. Daniel, quello che vediamo quindi è un sistema modulare per FM, un trasmettitore con amplificatore di potenza da 2 fino a 80 kW, quindi potenze molto elevate. Sì, noi puntiamo tutto su questa modularità perché pensiamo che avendo un unico modulo che di per sé già funziona e ha tutte le caratteristiche per funzionare, ha il suo evento, della sua alimentazione, la sua logica, ha tutte le sue caratteristiche. Quindi si può già vendere da solo come apparato da 2 kW. Combinandolo, abbiamo sviluppato una linea di combinatori che prevede qualsiasi numero di ingressi, da 2 a 10 e quindi si arriva a dire se facciamo un 2, 4 kW, 6, 8, quello che serve, combinando due colonne come questa si fa un 20 kW, 4 si fa un 40. Avendo questa modularità noi concentriamo tutta l'energia del controllo qualità, dello sviluppo su un unico modulo e quindi è una potenza di fuoco molto alta da un punto di vista tecnologico. Poi si tratta solo di combinarlo nelle diverse... Secondo le esigenze del cliente. BS50 il modulatore eccitatore, VL2000 invece l'amplificatore di 2 kW, il modulo che abbiamo già visto nella configurazione precedente, nell'illustrazione che fa da scenografia allo stand stesso della CTE Teco. Volendo entrare più nel dettaglio su questi due prodotti e quindi spiegare anche alcune specifiche tecniche più particolari. Bene, questo è un amplificatore da 2000, anche lui modulare, ha la fonte, l'alimentazione plug-in, è tutto sovradimensionato, pensato per lavorare in ambienti ostili, noi vendiamo molto in Africa, vendiamo in Latino America, quindi praticamente essendo un 2000 ha un alimentatore sempre hot plug-in dei 3500 watt, ha un motore, un silicio che è di 3000 watt, quindi stiamo praticamente quasi duplicando il motore, quasi il doppio di quello che lui veramente produce, 2000 watt. Ha quattro ventole, è completamente ridondato, è fatto in tecnologia planare e poi è completo, essendo un modulo che ha sia l'alimentazione, la ventola, la logica, tutto in se stesso, quando uno deve riparare un sistema grosso, di grossa potenza, può semplicemente estrarre questo modulo e provarlo su un banco, cioè un tecnico normale, un tecnico in Latino America abituato a riparare queste macchine lo può fare, cosa che non fare, può fare una macchina dove tipo il modulo è solo l'amplificatore, lo tira via, non gli manca l'alimentatore... Quindi in realtà è un qualcosa che si può fare senza interrompere il servizio, per essere precisi. Passiamo agli altri prodotti che vediamo qui di fianco, per concludere... Questo è una matrice audio di un sistema 1np1, questa è una logica di controllo che può funzionare o come logica di controllo degli apparati o come 1np1, un ricevitore ad altissime prestazioni per fare il rebroadcasting e un trasmettitore da 1000W della CTE storico, una macchina che è un carro armato, ne abbiamo venduto migliaia, lo usano tutti i sistemi, tutti i grossi clienti RAI, la Teracom, dei grossi clienti istituzionali di Europa, sempre con ottima soddisfazione. Questa invece è una soluzione software che può essere data sia come servizio che invece come soluzione venduta praticamente il Network Management System e serve a memorizzare, quindi puoi utilizzare, sfruttare e gestire quelli che sono i dati del funzionamento della rete con tutte le eventuali problematiche anche a livello storico. Sì, praticamente la differenza che c'è con un normale sistema dove uno si collega via web ai nostri apparati e può vedere in real time che cosa sta facendo l'apparato in quel momento, questo ogni tempo prestabilito tipo 10 secondi, 30 secondi, va a guardare tutti gli apparati che c'è nella rete, posso avere anche 1000 apparati e va a memorizzare i principali parametri. Quindi fa l'acquisizione nel SNMP, lo conserva in un server che in questo caso può essere o installato presso il cliente o possiamo dare noi il servizio e si collega al nostro server. In questo modo può avere tutta la storicità di quello che ha fatto l'apparato con i principali parametri nel tempo o anche un anno o due anni. Uno può vedere l'anno scorso in una tela data se veramente è stato un caldo di servizio, un caldo di potenza e questo si può fare sia con apparati della CTE che sono già predisposti con questo perché hanno il suo SNMP, sono completi, oppure con apparati di altri produttori che abbiano l'SNMP oppure con apparati anche vecchi che non abbiano web o SNMP grazie ad un'interfaccia che noi produciamo dove si acquisiscono via una logica, i principali parametri, un connettore, tutti gli altri. Vengono digitalizzati e resi poi disponibili per l'applicativo. Esatto. Con questo è tutto, Daniel Pometti e Antonio Franco dallo studente della CTE Teco per Digital Production dall'ABC di Amsterdam. Grazie. Grazie a tutti.